L'uomo sogna di volare, guardare dall'alto, planare sul mare Che si trovi su un aereo o in un grande appartamento Sui gradini di una chiesa, nella favela di Cangia L'uomo sogna di volare E scrive Un'operazione molto importante, è sempre stata la nostra prima scelta e dobbiamo ringraziare lui, Martens, la sua famiglia e il suo procuratore perché hanno fortemente voluto anche loro che si completasse questa operazione senza la loro ferrea e forte volontà non ci saremmo riusciti e mi aspettavo per la prossima scelta e le scelte dopo Quindi sarà un buon momento Buongiorno a tutti Innanzitutto voglio introdurre questa conferenza dicendo che sono molto felice di essere qui molto orgoglioso e aspetto solamente che avvenga questa stagione Devo dire che la Roma è a passa molto presto e Roma è proprio quello che volevo e che desideravo Spero che non vediate solo i miei lati cattivi Io cercherò di dare del mio meglio e dunque solamente i lati migliori Il problema è stato il pollice della mano sinistra e in realtà i giornali hanno detto 3-4 mesi ma effettivamente sono stati solamente 2-3 mesi e ora sto molto bene No, non è solo perché non è solo perché sono qui ma è anche perché del mio manager soprattutto il mio manager, l'office mi portano qui e l'unica cosa che ho detto è che voglio giocare per Roma e sono felice che sono finalmente qui e ciò che prende un po' di settimana ma finalmente sono qui sicuramente non è solo merito mio ma è anche merito del mio staff e del mio manager L'ultima settimana ero qui per la prima volta per fare il medico e parlavo anche con Luis Enrique e anche Franco e alcuni giocatori ma ho iniziato oggi per la prima volta il training quindi sono felice che sono finalmente qui per trainare e domani sono qui per la squadra nazionale e i goali per questa season io sempre gioco per vincere un gioco e per vincere i prezzi e non importa dove io gioco io sempre voglio vincere sono arrivato qui lo scorso weekend per fare appunto le visite mediche ho conosciuto Luis Enrique ho parlato con Franco ho visto alcuni giocatori e stamattina ho iniziato l'allenamento beh il mio obiettivo è giocare per vincere e quello è sempre stato il mio obiettivo io sono il mio manager e questo è il momento in cui abbiamo iniziato a parlare e ovviamente ho ascoltato anche su Romero e Cammini ma per me non c'è nessun problema hanno preso me quindi sono felice di essere qui ho parlato con il mio manager ho sentito parlare appunto circa questi due nomi ma ora sono qui e sono felice di esserlo ho preso il 24 perché è il giorno di mio figlio beh, semplicemente perché è il compleanno di mio figlio è la data di nascita di mio figlio cosa ho sentito è che loro vogliono veramente venire qui e questo è il motivo ho parlato anche con Luis Enrique la forma di football vogliono giocare qui e la struttura del club che hanno iniziato ora io voglio essere parte quindi penso che mi metterò bene qui nel team nella forma di giocare beh, questo progetto ho sentito che ce l'avevano molto a cuore e oggi ce l'ho a cuore anch'io per cui ho parlato con l'allenatore abbiamo parlato della struttura di come vorrà impostare il gioco e ne vorrò prendere parte molto volentieri un modello no non ho un modello ma ho molti buoni goaltieri uno che è solo finita Fandasar è uno dei migliori credo beh, Buffone è un ottimo portiere ma non sono qui per dire che io sono il migliore sono qui per dire che farò del mio meglio e cercherò di farlo con tutto me stesso forza Roma forza Roma appunto come diventa facile voltarsi e non guardare e come diventa facile